Dopo gli orrori della guerra, quel posto sembrava tranquillo. Ti presento il capitano oggi. Non sempre il nemico più spietato ha una divisa di colore diverso. Ma io le ho pagate le tasse, le ho aumentate tutte le settimane. Quanto tempo mi può forcire? Tre giorni al massimo, ma non bastano per fare un'indagine. I cavalli! Non devono prenderli! Randolph Scott, Lex Barker Per la vecchia bandiera.